buongiorno buongiorno a tutti buona giornata oggi prima giornata dell'ipa della fiera vera e propria e com'è leo freddino oggi oggi fa freddo in maniche corti ma fa freddo giustamente oggi fa freddo se noi stiamo nella magliettina è giusto così e vabbè oggi è più easy la fiera è più tanto quella fa caldo stiamo entrando in metro facciamo colazione sempre lì ormai faccio vedere un po' la metro e c'è molto da vedere non c'è nulla da vedere va ah e vi dicevo nel primo vlog che non ci sono barriere per entrare cioè non devi timbrare niente e passi subito al treno vedete quantissimo ma guardato storto leo non è che non si può fare le riprese però non si può mangiare non si può mangiare e ieri è entrata una tizia con la pizza se se potessi mangiare la pizza vabbè dettagli ecco ifa lettere cubitali perché dicono noi non diciamo dov'è però facciamo l'insegna gigante si si perde dove è esatto esatto non sembra esserci neanche donna figa no beh direi che è anche medigiorno una bella docetta si fa tappa d'olio pronto e via grazie 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 giさ grazie 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 Ma quale gusto? Io vado di Bolluto Pochi gusti ci sono, eh? Pochi gusti, si Bolluto? What else? What else? Tutti partiti molto in anticipo Già il mock-up, già le cover di iPhone 7 Jack of the computer 7 Questo sarebbe il 4.7 Con una camera sola E' bello Quindi tutti questi sono già per iPhone 7 Questi sono per iPhone 7 Questi sono per iPhone 7 Oh, ok Tu lo posso fare per iPhone 7 Vediamo se il signore è fortunato, ahi! Allora Leo, vuoi sfoggiare il tuo doppio di glassa? No, non sono bravo! Ah, quasi, dai! Però per la prossima! Dai, ci stava Leo però, dai un calcio! Gli rompi lo schermo e ci andiamo! Ah, dai! Siamo nuovamente allo stand di Sony. Leo mi ha abbandonato per fumare. C'è un po' di fila. Finalmente proverò questo VR. Ci vediamo un po' con la storia. Ciao a tutti, abbiamo appena provato il VR, PlayStation VR al paniglione Sony. Dopo un'ora di fila. Dopo un'ora e passa di fila ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo provato. Il gioco era stra-ignorante, ma... Sì, vabbè, era quello della Playroom con i bucazzetti che distruggere. Però... Però... Devo dire che è stato divertente, bello. Sì sì, è bello. Penso che lo acquisterò. Acquisteremo. Ovviamente recensione su Etecmania, prezzo 3,99. Sì. Ne vale la pena? Lo sapremo quando lo compreremo. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In italiano? Dove? Qua d'Italia. Ho dipinto il muro della vergogna e finché la libertà non si è più vergogna. Questo popolo ha scelto la luce e poi le hanno scritte i soldi. Inverno dantesco. Quindi, Leo, ti trasferisci qua? Anno prossimo ho quattro mesi qua. Deciso? Deciso. Va bene. Così impari pure il tedesco. Inche il tedesco. Ti manca. Eh, purtroppo Primark è chiuso. Ti sei rimasto male, eh? Un pochino. Vendetta. Un pochino. Mi hai fatto trovare il Legoland chiuso e ora tu hai trovato il Primark chiuso. Raga, direi che è arrivato il momento di ritirarci a casa. Undici e un quarto. Mezzanotte ci chiude la metro e restiamo qua. Le notte di Letty B direi di salutarci qui. Ultima birretta e si va a casa. Sì. Per questo terzo... No, secondo. Terzo. Terzo giorno, primo giorno di IPA. Yeah. Ok, ciao. Ciao.